Come insegno il costume per lo spettacolo e storie tecniche del costume nel biennio specialistico? Le mie lezioni sono strutturate in un modo che ha una parte teorica, quindi affronta tutto quello che è lo studio della storia del costume e della moda dagli origini ad oggi, nonché anche le evoluzioni odierne e contemporanee nei vari stili, i movimenti giovanili. Poi ha una parte soprattutto laboratoriale e progettuale. La parte progettuale è quella che affronta chiaramente dai testi teatrali piuttosto che cinematografici, quindi il modo di come sviluppare un progetto, come improntarlo per una determinata esigenza su un testo piuttosto che appunto una sceneggiatura cinematografica. E una parte vera e propria laboratoriale di costruzione, cioè capire come si costruisce un costume sia che sia esso d'epoca sia che sia un costume contemporaneo, quindi un aspetto prettamente sartoriale di costruzione del modello. Credo che uno studente debba scegliere la rufa prima di tutto, forse perché c'è proprio il clima, come dicevo anche prima, tra noi docenti abbastanza familiare, quindi essendo molti uniti diamo chiaramente un aspetto diciamo formativo molto più completo. Abbiamo forse dei numeri anche un po' più circoscritti, questo fa sì che ogni studente è seguito praticamente personalmente sulle esigenze specifiche dello studente. Inoltre l'Accademia, come Accademia delle Belle Arti, noi a differenza forse di molte altre facciamo molti progetti collaterali e quindi ogni singolo scuola, nel nostro caso quella di scenografia, gli studenti hanno modo di fare esperienza attraverso lavori esterni che vengono fatti per l'Accademia e con l'Accademia. Vanno dalle messe in scene, diciamo, di spettacoli, ad installazioni, si partecipa a tanti tipi di avvenimenti, per cui diciamo che i normali corsi di studio sono accompagnati da altri tipi di esperienze che sono più sul campo, che a mio avviso insomma sono fondamentali perché così non rimane solo una teoria ma bensì una vera e propria pratica di quello che è poi l'aspetto lavorativo nella realtà. La prima esigenza è oggi tutto va fatto molto velocemente, per cui simuliamo, se vogliamo, anche delle situazioni d'aula, dei lavori, tipo, dove appunto c'è magari una richiesta con tempi brevi, quindi devono soddisfare, saper soddisfare la richiesta di un eventuale committente. La parte, diciamo, teorica delle nostre lezioni è sempre accompagnata da un aspetto appunto pratico, non necessariamente quindi solo ed esclusivamente lo spettacolo, ma tutto quello dove noi possiamo applicare il nostro lavoro. Può essere per esempio in un aspetto performativo piuttosto che installativo, quindi di solito lavoriamo anche su altre esigenze, quindi non solo la messa in scena di uno spettacolo teatrale, piuttosto che il seguire un cortometraggio o un lungometraggio, ma anche quello che può essere per esempio un'esposizione museale, quindi in un polo museale creare un'installazione. E allora è quello lì che chiaramente è sempre, diciamo, è costantemente tutto il ciclo di studi accompagnato da un aspetto proprio lavorativo sul campo. All'interno delle mie lezioni, diciamo, la parte più pratica è quella che è inerente alla costruzione, ovviamente, dei costumi. Noi a quel punto, diciamo, gli studenti lavorano proprio sul materiale, quindi ricerca, prima di tutto progettuale, quindi creativa, diciamo, di idea. Scelta del materiale più idoneo da abbinare a quel progetto. La sua realizzazione, quindi quello che è proprio l'aspetto più pratico, cioè per esempio il taglio, la confezione dello stesso, il creare il modello, ma anche quelle tecniche che servono alle volte a simulare, non so, degli invecchiamenti, piuttosto che delle tinte, quindi dei colori, dei decori anche sul tessuto, piuttosto che le classiche applicazioni. Quindi, insomma, si lavora anche spesso con materiali alternativi, alternativi, diciamo, non i classici, consueti che uno immagina come il tessuto, che è magari la cosa più chiaramente canonica per la realizzazione di un costume, ma anche le plastiche, piuttosto che materiali più dell'architettura o dell'arredamento, o anche delle sperimentazioni con le carte. Quindi, diciamo, mi piace molto anche portare gli studenti a sperimentare anche nuove tecniche, in più applicandole a quello che poi può essere un'esigenza chiaramente pratica, cioè un abito, per esempio, in carta, deve avere anche una durata se questo viene indossato per più volte. Quindi pensare come strutturare un abito che non deve essere messo ed eliminato per poi ricostruirlo, ma che comunque duri e permanga nel tempo. Il talento è una dote innata e credo che, insomma, si scopri immediatamente. Si vedono subito le doti di un ragazzo, di uno studente. Per cui, diciamo, quello è abbastanza immediato. Su quello, chiaramente, noi siamo una linea guida che aiuta ad affinare e a tirar fuori al meglio questo talento. Per chi, ovviamente, diciamo, ha meno questa dota, è sicuramente l'Accademia delle Belle Arti. È un ottimo luogo di sperimentazione e di studio che può creare di sicuro un buon professionista. Anche quando gli studenti, quindi, escono dalla rufa, noi manteniamo sempre un contatto con loro. Infatti, spesso, anche nei loro primi passi nel mondo lavorativo, si rivolgono a noi per avere sempre dei consigli di come svolgere al meglio le prime esperienze lavorative. Nonostante ciò, capita sempre che noi, come Accademia Rufa, facciamo sempre questi nostri progetti, che annualmente, ovviamente, sono sempre diversi, e chiamiamo spesso anche i vecchi studenti, quindi quelli già usciti dall'Accademia, per collaborare con noi ai progetti che abbiamo in corso. La mia materia, il costume per lo spettacolo, ha sicuramente molte applicazioni, non solo nel campo dello spettacolo, quindi al di là del cinema, teatro, in tutti i suoi sensi, quindi la danza, il teatro dell'opera, la prosa, è applicabilissima, soprattutto ad oggi, a quello che abbiamo di esigenze, diciamo, contemporanee. Pensiamo, per esempio, alla musica, i video che si fanno per la musica, l'immagine per un cantante, piuttosto che anche l'immagine per un conduttore televisivo. Può toccare anche gli ambiti della moda, non proprio come la moda in sé, ma vicina o parallela alla moda. Gli sbocchi professionali, quindi, poi, possono essere portati sicuramente verso, per esempio, la cura dell'immagine. Uno stylist è colui che, appunto, crea l'immagine per l'attrice, per il cantante, per il conduttore televisivo, insomma, per chiunque, ovviamente, abbia esigenza di avere, diciamo, un'immagine curata. Inoltre, potrebbe applicare questa arte, applicata appunto, ai fini, per esempio, espositivi, installativi, cioè creare delle opere che sono più delle opere singole, né più né meno come il pittore crea un quadro.